Infatti io gli ho detto, gli ho detto, non so, ma la sferminazione, ma l'ho detto si fa così, allora voi subito, io invece avevo la puntura, la sirina, gli ho detto, tanto, io gliela ho detto, io gliela faccio, perché sennò dobbiamo, ti devo prescrivere che deve fare analisi delle feci, dovete fare le feci, ci deve fare analisi, allora se ci stanno oppure no, ce la facciamo, se ce l'ha, ci si bevono, se non ce l'ha, ci fanno niente, e tutto quello che ha fatto, mi ha regalato pure due bustine di cose da mangiare, io facevo una roba più grande, è giustamente 3 anni, magari dove sta un cucciolo, c'è bisogno di cose, è una cosa assurda, è regalato sempre così a 15 euro, quella che mi dice, no, ma lì infatti mi ha messo, mi ha portato via, c'era troppo di animali, quindi non ce la fare, è pure più fatta di lui, mi ha innamorato questa settimana a fare il vaccino.